Buongiorno mister, dopo la sconfitta di Parma ci sono stati pochi giorni adesso per preparare questa gara ti chiedo insomma quanta voglia di rivalsa c'è nel gruppo? Credo che in questo caso sia stato meglio, perché quando esci dal campo con la sensazione di aver fatto malissimo vorresti rigiocare la mattina dopo, quindi io credo che in questi casi sia un bene rigiocare subito perché hai la possibilità di dimostrare prima di tutto a te stesso e poi agli altri che è stato un incidente, che è stata una prestazione bruttissima ma che quella non era l'Udinese e quale migliore occasione per rigiocare e dimostrarlo? Sì è vero, è stato un incidente abbastanza grave anche, però siamo alle solite questi incidenti vanno avanti dallo scorso anno, quindi io credo che senza chiamare in causa gli allenatori gli allenatori possono, sì in un certo punto, io credo che sia un limite di questa squadra in tempi non sospetti ti ho detto che il ciclo di Guidolin come squadra, non come allenatore si chiuderà probabilmente quest'anno, perché purtroppo è questa la squadra, la squadra dello scorso anno la squadra di tre anni fa, di quattro anni fa, sono stati cambiati poche pedine, quindi nonostante gli sforzi che possa fare un allenatore, una società o qualcosa, io credo che bisogna resettare tutto, perché da due anni si commettono gli stessi errori a livello mentale, a livello tecnico a livello tattico. Sicuramente la prestazione di mercoledì è stata avvilente, io ho detto che era difficile giudicarci perché è come se non fossimo scesi in campo, secondo me per la maggior parte per un fattore mentale, per un fattore sicuramente una cosa su cui bisogna lavorare, bisogna anche interrogarci e riflettere, soprattutto perché la squadra veniva da un trend molto positivo e 72 ore prima aveva finito di battagliare su un campo difficile come quello di Marassi, quindi ripeto, quello che poi, e ovviamente in questo siamo coinvolti tutti, quello che dovevo dire ai miei calciatori l'ho detto sia a caldo che a freddo e l'unica strada che conosciamo è soltanto ritornare a giocare e a fare prestazione come stavamo facendo, quindi in questo caso secondo me devi solo velocemente girare pagina e rifar parlare il campo perché non c'è altra medicina tra un punto di vista. Poi sicuramente questa cosa che tu hai detto anche solamente per la mia stagione è vera perché ogni volta, io quella di mercoledì la vedo come una grande occasione persa perché comunque era l'occasione per fare quel salto di qualità che sono 2-3 volte che noi non riusciamo a fare perché potevi balzare a 37, potevi aprire degli scenari nuovi e abbiamo perso una grande occasione, quindi per la salvezza rimane tutto inalterato ma abbiamo perso un'occasione di balzare in avanti. Grandissimo rammarico ma questo è il calcio va avanti, nel senso il calcio non si ferma, c'è tempo solo per preparare al meglio la partita seguente che è quello che faremo. Un'ultima domanda, non è un caso, manca Pinzi perdette. Nel 2015 l'ultima gara di Pinzi con la Sampdoria, mediano metodista, tu dici da schermo della difesa e avete fatto secondo me la miglior prestazione, considerato le difficoltà esterne, il momento della Sampdoria eccetera eccetera. Torna Pinzi dopo due mesi e mezzo con il Torino, vittoria, poi tre risultati consecutivi, Pinzi si ferma, la squadra perde. È chiaro che si perde in 11 ma voglio dire l'importanza di Pinzi si nota. Domanda, ci sarà domani? E che sono scemo. No, è dato, era dato non al meglio della condizione fisica. Era una battuta per rispondere perché era così bello tutto il racconto che faremo di tutto per farlo essere in campo ma adesso a prescindere dalla... È in dubbio o no? Sta forzando i tempi, ieri ha fatto parte dell'allenamento, oggi la forzerà ancora oggi pomeriggio però ovviamente avevo risposto con una battuta perché ne abbiamo parlato tante volte. Io in quella posizione, lo sapete, abbiamo provato soprattutto anche altre soluzioni ma quella che ci dà più equilibrio di tutti è quella con un giocatore con caratteristiche come quelle di Giampiero. Quindi è il campo poi sempre a parlare e quello... ma questo non vuol dire che adesso con tutto il rispetto per Giampiero che non possiamo andare in campo senza di lui. Quindi è ovvio che è una pedina fondamentale come ce ne sono in questa squadra però tatticamente è ovvio che quelle capacità e quelle caratteristiche ce le ha lui e non è un caso che Ludinese abbia avuto un mix di equilibrio e solidità quando lui ha giocato in quella posizione. Però questo senza nulla togliere ovviamente a chi ci ha giocato con altre caratteristiche perché potrebbe non essere un problema individuale ma un problema di costruzione della squadra, no? Che quindi con... questo è... però comunque Giampiero e Conè sono i due... Pinzi e Conè sono i due giocatori che stiamo cercando di recuperare e Conè per infortunio, Pinzi anche, comunque era squalificato mercoledì quindi pur volendo non sarebbe potuto scendere in campo. Mister, buongiorno. Buongiorno. Senta, siccome lei ha parlato i problemi mentali, secondo lei, essendo che è una squadra abbastanza giovane, quanto possono influire queste voci di mercato che vogliono questo da una parte, questo dall'altra, eccetera, eccetera? Ma chi sta qui da più anni di me mi ha detto che... cioè mi confidava che è una cosa un pochino... che qui può accadere, no? Che magari ha obiettivo nella testa raggiunto qualcuno possa... ma questo è sbagliatissimo, io l'ho ribadito sia personalmente che pubblicamente ma credo che l'abbiano capito anche i ragazzi ma per un motivo molto semplice perché non mi risulta che nessuno sia stato già venduto e quindi faccio un motivo molto... Torta ragione, insomma. Esatto, quindi faccio un discorso molto semplice che non mi risulta che nessuno sia stato già venduto e quindi penso che finire alla grande le ultime nove partite possa aiutare anche qualcuno a andare via o no. Quindi è normale che il nostro... sarei ipocrita se non dicessi che il nostro obiettivo è mettere in mostra i giocatori perché lo è ma nove giornate dalla fine, come posso dire, posso capire che ci può essere magari in qualcuno magari fare un allenamento non al 100% ma non lo posso accettare da allenatore quindi il mio compito è quando lo vedo cercare di fargli capire che in nove partite il futuro va ancora scritto, futuro individuale e futuro di squadra quindi chi ha un'idea solamente lontana di pensare che sia a fine della stagione sta sbagliando tutto perché non conosce Gino Pozzo, non conosce la mentalità dell'Udinese. Mi dicevano che anche in passato tanti giocatori pensavano ad aprile di avere già un'altra maglia e poi hanno ricominciato con la nostra. Secondo lei l'hanno capito? Te lo dico domani verso le 5, 5 e mezzo. Domani glielo richiedo. Buongiorno Valentino di Mondo Udinese. Lei aveva preavvisato di quelle che sarebbero state le difficoltà ad andare a giocare a Parma perché sa meglio di tutti quali rischi poteva correre la squadra psicologicamente anche, no? Giusto? Ma dopo Genova però, dopo la bella prestazione di Genova, il Presidente Pozzo ha detto che è arrivato anche il momento di fare esperimenti. Ma non sarà che qualche esperimento è stato adottato anche durante la partita di Parma? Sapendo benissimo i rischi a cui saremmo andati incontro? Io credo che qui bisogna fare un discorso a monte. Innanzitutto, per quanto io possa, ovviamente ero sicuro delle difficoltà della trasferta di Parma, l'avevo detto, qualcuno aveva sorriso, ma semplicemente perché lavoriamo vedendo le partite. Quindi il Parma che si era visto a San Siro non aveva rubato niente, il Parma che per poco batte l'Atalanta in casa che lotta per la salvezza non aveva rubato niente, il Parma che ha pareggiato a Roma con la Roma che probabilmente l'aveva tagliata fuori dalla lotta a Scudetto. Quindi lo dicevo da allenatore. Ma detto questo non è che io mi tiro fuori perché io sono dentro con tutti i giocatori nella prestazione negativa e non è proprio mio stile. Anzi, sono sempre il primo a dire quando abbiamo fatto una prestazione negativa e quindi il rammarica di tutti e quello che dovevo dire ai calciatori, come dicevo prima, gliel'ho detto in faccia, con tutto rispetto senza bisogno dei media. Per quanto riguarda i nostri obiettivi sono chiari, nel senso noi dobbiamo centrare la salvezza e cercare di costruire qualche figura professionale per il futuro. Però non voglio sentire parlare che va bene quando Perizza va bene a Genoa e va male quando magari qualcun altro non fa bene in un'altra partita, perché se no non ci siamo. Il progetto, la spina dorsale, l'allenatore ha messo in campo la squadra che riteneva migliore. Non si nasconde dietro al fatto perché se io ho messo Perizza a Genoa era convinto che fosse in quella la sua partita. Se metto adesso per dire Aguirre a Parma, ma non è che è Aguirre che è andato male, è Ludinese che è andata male, perché il poverino ragazzo di quell'età è il meno indicato per tirare la croce addosso, anzi è sempre l'allenatore e tutta la squadra. Quindi in questo non voglio sentire parlare di, ripeto, è normale che il mio lavoro è anche lanciare qualche giovane a 7, 8, 9 giornali dalla fine, ma con intelligenza. Poi ci sarà la volta come a Genova che può andare bene, può andare meno bene, ma se la Ludinese avesse fatto una buona prestazione ci metto la firma che anche Aguirre avrebbe fatto una buona prestazione. Questo è un discorso generale per dire che è vero, che è uno dei nostri obiettivi, però bisogna avere molto equilibrio nei giudizi perché non può in una partita, se no facciamo l'errore che si fa nelle grandi piazze, che fa una partita male e dice no, qui c'è un lavoro, c'è un progetto che va oltre ed è il nostro DNA lanciare e proteggere questi giocatori, perché se no diventa un gioco al massacro e non è giusto. Il Palermo non vince da due mesi, ieri il Presidente Zampanini ha detto che la situazione è abbastanza... bisogna introdurre le cose come sono, non c'è nessun problema a dire che... si aspetta un'Udinese arrabbiata ma anche voi dovete aspettarvi un Palermo abbastanza tosto e determinato. Provo a spiegarci un po' le insidie di questa partita, anche alla luce c'è il fatto che il Palermo è una squadra che comunque ha dimostrato una buona fluidità di gioco, di manovra in prima parte della stagione, ha delle individualità importanti come di Bale e Vasquez. Potrebbe assomigliare un po' a tipo la partita col Torino, avete giocato in casa dove avete affrontato anche allora una squadra abbastanza bella e pratica? Io credo che leggendo i giornali, quando una squadra ha due attaccanti che insieme valgono da quello che dice il loro Presidente quasi 60 milioni, credo che il valore sia sotto gli occhi di tutti, perché sentivo le qualitazioni di Dybala e Vasquez, giustamente, e credo che una squadra che abbia questo potenziale offensivo vada rispettata sempre. Ovviamente hanno anche un'ottima organizzazione di gioco, è una squadra che ha fatto un po' una grandissima partenza, poi magari ha lasciato in questo periodo, non ha trovato continuità, ma noi ovviamente in questo momento, se fosse il Palermo, la Juventus o chiunque, l'avversario di domani, per noi è importante ritornare a fare prestazione e per l'Udinese prestazione è quasi sempre corrisposta a punti. Quindi, ripeto, abbiamo trovato una continuità di risultati, ma anche di solidità, sicuramente a cui abbiamo dato un piccolo calcio mercoledì, adesso sta a noi riprenderci e ritornare a fare prestazione contro una squadra che ha un punto più di noi e quindi, secondo me, sarà una sfida sicuramente avvincente, equilibrata. E' ovvio che per rispondere alla tua domanda, la coppia di Bala-Vasquez ha grandissima qualità e credo che passino per i loro piedi molte delle possibilità del Palermo di mettere in difficoltà l'avversario di turno. Quanto bene dice il recupero di Piris proprio per la presenza di Di Bala? Ah, ecco, parlando di tattica, di tecnica e di tattica, che è la cosa che probabilmente è un allenatore, l'unica di cui dovrebbe parlare. Nella difesa 3, l'avere un difensore che può scivolare sulla marcatura del giocatore più piccolo o comunque del giocatore più rapido, ma in questo lo ha fatto anche Ertova tante volte, di diventare il quarto di difesa e permettere a Widmer di giocare più alto, per noi è molto importante. Quindi se sia Piris o se sia Ertova il terzo centrale, comunque un giocatore che può anche fare il terzino, ritorniamo a quel discorso della duttilità tattica che può mettere in difficoltà l'avversario di turno. Quindi non è un caso, questo lo do come numeri, che noi contro squadre molto chiuse praticamente tutte le occasioni provengono dagli esterni, in questo caso da Widmer. Anche contro il Parma le quattro volte che siamo arrivati a tu per tu col portiere sono stati i suoi inserimenti, ma perché? Perché non abbiamo caratteristiche centrali per sfondare, tra virgolette, difese molto chiuse, quindi centralmente siamo pericolosi in campo aperto, come sapete bene, e quando troviamo difese molto chiuse noi dobbiamo passare per la tangenziale, diciamo. E quindi secondo me il recupero di Piris e o di Ertova, comunque del terzo difensore che permette a Widmer di giocare più alto, per noi è importante perché ci dà un'arma in più qualora la partita abbia determinate caratteristiche, poi sono giocatori più bravi a marcare vari centri bassi come Di Bala, come Perotti, Iago Falche col Genova e via discorrendo. In queste ore lei crede di aver visto gli occhi della Tigre nei suoi giocatori, cioè la rabbia giusta come si suol dire o sono giovani e bisogna... Ma sai, a me questa, ripeto, queste sono domande, ma non è per scortesia, ma se io fossi dall'altra parte preferirei i fatti, no? Cioè non le dichiarazioni prima, ma perché non mi piace proprio come il mio modo di essere semplice, quindi non mi piace il proclama prima della prestazione. Io credo che siamo in ritiro, stiamo lavorando duramente, la stiamo preparando, quindi sono sicuro che domani chi andrà in campo lo do per certo, lo do per scontato che metterà tutto quello che ha. Poi è normale, prima ho parlato di prestazione perché promettere una vittoria mi sembra una cosa veramente stupida in Serie A, promettere una prestazione è qualcosa che si deve, lo dobbiamo fare per noi, per i nostri tifosi e quindi fare una prestazione come le ultime è una cosa che mi aspetto e ritornare a lottare come abbiamo fatto fino a sabato sera è cosa che non è riuscita mercoledì, quindi questo è il nostro proposito. A proposito di esterni, di Wilmer hai detto, Gabriel Silva, come siamo, a che punto siamo e poi voglio sapere qualcosa anche di Natale, che di solito quando le cose vanno male lui tende, almeno questa è l'impressione esterna, a intristirsi un pochino, non ha ancora detto che si ritira, però magari insomma, non so. No, Gabriel Silva, io onestamente a Genoa l'ho visto bene, l'ho rivisto bene, secondo me aveva Gabriel bisogno di un po' di continuità, poi avevamo con queste tre partite ravvicinate, vista la qualità dei due giocatori, preparato una sorta di rotazione con Pasquale e domani risarà in campo Gabriel, secondo me può fare un'ottima partita perché l'ho visto bene, quindi ho fiducia in lui e sono contento che stia recuperando la forma migliore. Vabbè, Totò non credo che sia, onestamente non credo sia una tristezza individuale, ma è ovviamente il capitano, quindi come me è il primo a essere ovviamente dispiaciuto perché abbiamo perso una partita brutta e soprattutto abbiamo perso quella continuità che stavamo cercando, quindi adesso lui mancano nuove partite, poi la decisione sta nelle sue mani per il suo futuro e sapete cosa penso, l'ho detto tante volte, ma adesso pensiamo al Palermo. Un'ultima cosa, hai parlato di Natale, io aggiungo anche Terò, è da qualche partita se non sbaglio, che non giocano insieme dall'inizio, è vero? È dalla partita contro il Cesena. Esatto. Domani possono giocare di nuovo, tu non parli di formazione ma già ne ho approfittato perché hai detto di Gabriel Silva che domani gioca. è un momento diverso, domani potranno giocare insieme? Giocano o potranno? Sto facendo progressi dai, già ho detto potranno. Dal Cesena che non dà uno. Mister abbiamo le domande dal web. Comunque per rispondere un po' più approfonditamente a questa domanda, la nostra crescita anche da un punto di vista del palleggio e della solidità era passata anche attraverso un centrocampista in più, ma è ovvio che in determinate partite, a mio avviso, un giocatore di spalle e di supporto alla punta deve esserci, quindi se non è con E, lo è Terò. È ovvio che le caratteristiche di Totò sono particolari, lui è un centravanti d'area, è un cecchino micidiale e infallibile dentro l'area di rigore, quindi questo va rifornito, quindi alle volte in certe partite, soprattutto molto chiuse, a mio avviso è più importante rifornire Totò che affiancarlo di elementi, quindi in questo caso però o con E o Terò un giocatore che muore dentro l'area con lui sarà in campo. Abbiamo le domande, Luca ci chiede, negli anni sono capitati i cali di tensione, a cosa può essere dovuto? Dice Piazza con poca pressione o cosa altro? Penso che abbiamo già risposto precedentemente a questa domanda, noi quello che ci siamo detti con la squadra e con i ragazzi ovviamente rimane nel nostro spogliatoio perché quello è sacro, però credo che nessuno ci sia contento di quello che è successo e tutti vogliamo dare una risposta sul campo domenica, io non credo che sia una questione di piazza perché facciamo l'esempio del Palermo o del Sassuolo, di altre squadre che hanno avuto un ottimo inizio e poi anche con grandi giocatori ha avuto un calo perché sono con i nostri stessi punti, quindi credo che nel calcio sia fondamentale far sempre bene, avere continuità soprattutto in Serie A e noi abbiamo sbagliato malissimo una partita e dobbiamo ricominciare a giocare. Laura invece ci chiede perché ultimamente le ultime due volte è escluso Allan dai titolari? Allan sapete che è stato un punto fisso di questo Odinese perché lo dicono i numeri, prima della partita di Genoa era l'unico giocatore sempre titolare, lui non è stato mai pubblicizzato tanto ma lui ha questo problema al Pube che ne pregiudicava un pochino la prestazione e in queste due partite era stato deciso un utilizzo part time per cercare di permettergli di recuperare perché è un giocatore che stava giocando sempre con delle cure mediche particolari e quindi domani sarà regolarmente in campo. L'ultimo, mister, pensa che il Palermo sia accomunato, appunto l'abbiamo anche un po' accenato prima, all'Udinese da questo andamento altalenante, è un inizio comunque molto forte? Ma onestamente loro hanno fatto un campionato inizialmente molto anche migliore del nostro perché hanno raggiunto delle posizioni e c'è stato un periodo che si parlava di zona europea, ripeto trascinata secondo me oltre che dal gran lavoro del mister anche da questi due grandi campioni che sicuramente sono destinati a far bene nel calcio europeo, adesso sicuramente hanno avuto un momento meno brillante, può capitare, noi ne sappiamo qualcosa perché l'abbiamo attraversati anche noi, però io domani, ripeto, mi aspetto una partita equilibrata, agguerrita, difficile e in cui bisogna stare molto attenti ai loro giocatori offensivi. Io ho visto la partita col Milan e c'era questo dato che mi aveva colpito tantissimo, quasi 65% di possesso palla del Palermo contro il Milan, insomma è un dato che fa pensare perché ti dà la misura di quanto il Palermo comunque abbia qualità, poi magari non ha raggiunto i risultati, noi domani, ripeto, Palermo o chiunque altro venga al Friuli per noi sarà una partita importante come fare prestazione.